A 19 anni dalla morte di Ilaria Alpi e Miran Rovatin, avvenuta il 20 marzo 1994 a Mogadiscio in Somalia, il presidente dell'associazione Ilaria Alpi, Mariangela Gritta Greiner, traccia un ricordo su questi anni di lotta prima dei genitori di Ilaria, Giorgio e Luciana e poi della società civile facendo anche il punto sul caso giudiziario. Luciana e Giorgio Alpi con dolore e indignazione ma anche con amore immenso per Ilaria hanno continuato la loro battaglia per avere giustizia. Hanno voluto portare avanti il suo impegno convinti che è proprio per questo che l'hanno uccisa insieme a Miran, ha fatto e fa ancora paura ed è per questo che anche la ricerca della verità sulla sua uccisione è difficile ancora. Oggi l'associazione Ilaria Alpi lancia con una lettera aperta un appello ai nuovi presidenti di Camera e Senato perché si continui a indagare in nome della verità e della giustizia. Nonostante infiniti tentativi di chiudere questo caso da anni, spiega Mariangela Gritta Greiner, siamo ancora qui, non ci arrendiamo, vogliamo e avremo la verità, tutta la verità e giustizia. Può essere una buona medicina anche per questa nuova fase politica che di certo esige aria pulita. L'elezione di Laura Boldrini a presidente della Camera dei Deputati e di Pietro Grasso a Presidente del Senato della Repubblica conclude è un segno di vicinanza e di speranza.